ciao ben ritrovata tutte quante oggi parlerò di un qualcosa di cui non ne ho mai parlato né su youtube né nel gruppo di facebook ma che mai per nessun tace ma neanche con le amiche sinceramente e di cosa sto parlando sto parlando del colore dei pantoni che andranno molto di moda questo autunno inverno 2020 e 2021 e sì allora che più che altro cosa voglio parlare l'abbinamento di un bijou abbinato a un colore pantone che va di moda un colore che va di moda ecco di questo io non ne ho mai parlato perché evito sinceramente di creare un qualcosa che vada di moda solo quel periodo può essere una lavorazione cioè la struttura della lavorazione ma non del colore perché magari lo stesso bijou io lo creo in più colori però andiamo a parlare oggi perché magari molti di voi ci tengono in questi anni diciamo letto diciamo molte di molte persone a cui piace abbinare come se fosse un abito il bijou fa all'abito anche una una cosa ecco tipo questa che non ha troppe pretese un bel bijou può farlo diventare un chic più scicchettoso o magari un po più normale o addirittura etnico e penso che in alcuni video ve l'ho fatto vedere con il cambiamento delle lavora anzi no scusate non della lavorazione ma del filato che sia lurex che sia satinato è anche l'abbinamento magari di perline o di svaroschi addirittura che abbellescono e fanno diventare il bijou molto più prezioso in tutto un toro però adesso bando alle ciance andiamo a vedere i colori dei pantoni andiamo andiamo a parlare del primo mantone che è un color terra bruciata ecco io qui abbinerei con il terra bruciata resterei soprattutto sui colori questo che è color ruggine un color senape sul colori proprio classici invernali questo è un color oro un po più chiaro questo un poco più scuro che va a base sul verdolino non so se lo abbinerei dovrei vedere oppure classici ecco qua questi laminati alcuni che ho tirato fuori color classico questo è chiaro questo è scuro classico color ruggine niente di più e abbinerei magari qualche pietra più chiara per staccare oppure proprio color terra bruciata resterei diciamo su questi colori colori color terra diciamo caldi ea terra proprio di terra terra passiamo al secondo pantone ecco il secondo pantone che vede qui su in alto è quello che mi fa più impazzire da sempre è un colore che a me sta benissimo in italiano diciamo che è color sedano cioè quel giallo verde stupendo mi fa impazzire sta bene con la mia colorazione di pelle olivastra e invernale e si può usare tutti i colori si possono usare di tutto andiamo prima sul classico come ho detto prima colori terra molto caldi si può andare anche sul più scuro sì ma perché no ma anche questo colori classici diciamo invernali però poi poi lo siamo o siamo sì tutte variazioni del viola ma anche più chiaro abbinati al ciclamino o si bello molto bello ma anche sul verde verde questo qui diciamo acqua marina verde questo che è proprio il colore che va insomma il color sedano un poco più chiaro tutti i verdi ma perché noi inseriamo c'è anche il blu che ci sta bene io ho questa solo titta di blu non ho più il celeste anzi eccolo qui c'è un verde acqua che è laminato ma sì ma voglio dire ecco togliamo questi qui ma inseriamoci anche questi color ciclamino questi viola questi belli accesi lurex tutto 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 si può abbinare a questo colore tutto è stupendo e fantasioso è invernale ma esuberante esuberante bello 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 la termino qua perché sennò farei un'ora parlerei solamente di questo colore il terzo pantone è un arancione che viene chiamata esuberante ecco qui andiamo sempre su questi colori non ve li faccio vedere tutti no classici colori invernali si può andare bene ma si può abbinare anche questo verde magari anche assieme io ve li faccio vedere assieme ma non è detto che si deve creare un bici con tutti questi colori diciamo spezzate cioè magari solo con questo è ecco si può andare anche sul sul chiaro per spezzare proprio l'arancione in questa maniera io farei anche un bici così ma per visto che io sono qui per farvi vedere colori da osare inserirei anche questo un po troppo dite che troppo sì ma per persone come me ma più che bene cioè farvi fa uscire fuori la follia invernale che è in noi e che non volevamo lasciare l'estate però ecco possiamo andare sul tranquillo più pacifico il giallo o vari tipi di di oro abbinati però questo è solo un tipo di oro che ho ma ne ho svariati che qui naturalmente si nota poco però vi giuro ne ho alcuni che si vede accostati si vedono nel reale questo anche che un oro antico con vari vari colori interni molto molto bello oppure ecco come ho fatto il classico nero ok il nero sta bene su tutto si può fare anche con il lurex insomma si può si può variare e anche usare dipende da dal vostro carattere passiamo direttamente al quarto pantone che il color mandarino è un rosso molto acceso e a questo punto userei molto poco perché è acceso già di suo il pantone cioè se non mettiamo un vestito un maione una gonna insomma e pertanto andrei sul il classico qui andrei sul classico il nero il grigio magari anche questi metallizzati o loro bianco resterei decisamente sul classico non oserei molto perché è già acceso di suo questa arancione questo rosso arancione già da forza di suo e resterei sul classico ecco un verde militare ecco scusatemi il verde militare molto molto bello un colore diciamo colore oliva che a me non sta bene con la mia colorazione va a tono su tono con la mia pelle invernale però per voi che siete più chiare va bene anche un colore di questo genere per accendere per spiccare su sull'abbigliamento di questo verde militare vedrei molto bene questo vari tipi di oro anche questi qui laminati e io ecco l'ho detto ne ho tirato fuori solo uno ma ne ho svariati anche po più chiari un poco più scuri però andrei qui su questo colore manterei anche se uno vuole restare in zona estate anche su questo giallo che non è male decisamente non è male andiamo oltre passiamo al prossimo pantone che il colore samba color samba è sempre un rosso ma sensuale ecco qui resterei sempre su il classico sul nero sul grigio sul nero o anche magari io ho solamente questo colore in questo momento di rosso ma anche mi piacerebbe molto avere un rosso diciamo del silon opaco però tono su tono qui si può giocare molto anche sulle pietre per dargli questa sorta di colorazione però resterei molto sul classico perché il rosso come dico io va è molto acceso se proprio volete fare impazzire le persone eccolo qui il blu io ho questo solamente tinta di blu in questo momento scuro però va molto è molto abbinato nella moda in questo inverno se voi ci fate caso con noi l'abbiamo sempre fatto e non ci sono mai risiconto con i jeans e un magari un maione rosso ecco questa no va molto magari volete abbinare questo blu così con di contrasto e allora magari le unghie o una borsa o le scarpe abbinati a questi biciù io ho anche questo qui arcobaleno molto bello da abbinare a questo colore se proprio volete uscire fuori da tutti gli schemi classici sappiate che il rosso e blu va molto come abbinamento ma anche come abbigliamento passiamo oltre andiamo al prossimo pantone che di questo colore andiamo a vedere eccolo qui è questo è un blu strong che da vita vitalità alla persona molto non è né troppo acceso né troppo spento la giusta via di mezzo e per andare sempre e non dimenticare l'estate un verde acqua molto bello un biciù verde acqua che accende oppure se vogliamo andare essere più tranquille sempre un blu scuro vogliamo spezzare andiamo su un verde acqua un verde acqua marina tanto per cambiare ma io con la mia estrusità andrei anche sul famoso lo metterei su tutto forse il ciclamino questo poi che lurex accende bellissimo mamma io sto sorridendo perché immagino le vostre facce quando io vi abbino anche questi due colori qui alessandra impazzita no non sono impazzita vedete anche fatto un colore questo qui ciclamino più scuro più soft ce lo vedrei benissimo molto molto bello andiamo oltre passiamo al prossimo pantone eccolo qui ve l'ho inserito su un'altra sinistra questo è molto più tenue molto più dolce per le persone più tranquille di me sicuramente un color betulla color quasi legno però qui andrei molto più sul dolce sul sofisticato questo colore qui oppure un belce chiaro molto carino userei anche un color salmone o anche sul rosa o rosa questo qui anche questo più scuro magari con questo qui però farei un bici però non non vorrei usare troppo vorrei restare sul sul classico proprio e poi ma sempre il nero il famoso nero qua ci sta bene oppure se volete ecco andare un po più sul colori color terra un marrone scuro proprio per magari sempre con qualche pietra più chiara restiamo molto sul dolce non sull'aggressivo passiamo al prossimo pantone che è il colore adesso lo inserisco ecco e se un blu più scuro e sempre sui blu più scuri io ci vorrei abbinare cose più chiare resterei naturalmente anche sempre su colori tenui proprio per un essere aggressiva ma potrei abbinarci anche un qualcosa invece di colori più caldi come dico sempre io su questi colori più caldi oppure ecco alcuni tipo di colori oro e perché no perché no ed ecco qui la mia mina un po pazzoide color glicine e questo qui color violetta sì per spezzare per dare magari in un assieme tocca vedere magari se ci faccio delle aggiunte però perché no questi colori così sempre può andare sempre bene naturalmente il nero e il grigio metallizzato può andare sempre bene naturalmente ma anche questo qui la mia colorazione arcobaleno non ce la vedrei male invece di sempre restare sui colori classici ci dobbiamo sbizzarrire passiamo oltre al prossimo e vediamo quale colore eccolo qui questo verde è bellissimo in verde acqua molto simile a questo colore che ahimè non si vede sempre bene però verde acqua che ricorda molto all'estate il mare non proprio il mare di tutta italia però va bene così questo qui verde acqua per proprio per non dimenticare il mare molto molto bello ci vedrei anche in questo molto anche questi colori che vanno molto bene perché spezzano visto che stiamo in inverno ricordiamoci hanno messo questo verde però siamo in inverno e dunque i colori caldi vanno più che bene anche e se proprio uno ma non a me non piace però me lo posso dire anche un rosso per spezzare ma non ce lo vedrei bene però ce li ho visti non vi preoccupate se lo dico perché li ho visti e sino mantenere su loro ecco questo oro antico magari un po più scuro di quello che ho io ecco anche così magari questi satinati non sono male e anche questo verde scusate che verde questo bianco antico per essere più eleganti magari con il nero il nero sta bene su tutto spero che vi sia piaciuto questo mio modo di approcciarmi al colore del pantone e al filato naturalmente io ribadisco non ho molti filato cioè non ho tanti colori sia satinati che lurex ne ho qualcuno e poi non vi ho fatto vedere i sbaroschi non ho fatto vedere le perline e anche vari tipi di perline non solo le delica quelle delle migliori di cioè io parlo di delle puca e molte altre oppure abbinare anche delle cose in ceramica insomma fatto vedere una minima parte di quello che si può creare e abbinarlo al colore del pantone in questo caso dell'autunno 2020-2021 a mio parere sempre a mio parere come questo video è tutto a mio parere non è legge mi raccomando tendo a creare bijou che possono andar bene anche dopo cioè passata la moda di questi colori pantone cioè di usarli più volte visto il costo perché la lavorazione è fatta a mano e quando voi comprate in questo caso chi mi segue e che li vende fate in modo e in maniera a mio avviso di farli diciamo indossare anche in estate o tra qualche anno magari si mettono nel cassetto in attesa che quel colore può piacere di più però la fa molto in questo caso parlando del macramè la lavorazione del bijou ok spero di essermi spiegata Dovrei fare mille esempi dovrei stare qui due o tre ore a dir poco andare nei minimi particolari però pur di non scocciarvi così tanto cerco di farlo più stretto possibile questo video giusto un'infarinatura ok un bacione e ci vediamo alla prossima però questa volta con un tutorial ciao 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 Grazie a tutti.